Parliamo un attimino di Tsugumi Project, di Ippatu, questa nuova serie che è appena uscita per J-Pop Manga, il primo volume, al costo di 6,50€. Devo dire che l'ho trovato molto figo come ambientazione e disegni. I disegni sono supportati anche dal fatto che ci sono tantissime pagine a colori sul primo volume, tra l'altro su carta patinata, quindi davvero molto molto fighe. Come potete vedere. E la storia è di quelle di stampo apocalittico, anzi post-apocalittico e distopico, come piacciono molto a me. Io adoro questo tipo di storie solitamente, naturalmente devono essere fatte bene. E questa lo è, per quanto riguarda il primo volume, almeno quello che ho letto io. C'è questa serie di criminali condannati a morte. In Francia. Infatti è stato pubblicato in Francia questo manga, prima che essere pubblicato in Giappone e in altre nazioni. E praticamente, diciamo che i militari che parlano inizialmente con questa gente, con questi criminali, dicono loro che se vogliono dei diritti, possono averli solamente in un modo, guadagnandoseli. Quindi, guadagnandoseli come? Devono praticamente andare in Giappone, che è stato colpito appunto da questo disastro di cui non si è parlato ancora nel primo volume, e recuperare una mega arma, un'arma incredibile, che si scoprirà essere poi dopo. Ancora non si è scoperto nel primo volume, anche se ora arriviamo a questa cosa, perché è uno dei difetti maggiori. E quindi noi seguiamo principalmente appunto il protagonista che atterra, diciamo in Giappone, dopo un atterraggio non proprio idilliaco. Ecco, e si ritrova davanti questo paesaggio di un Giappone devastato, con creature stranissime, simili a scimmie, e altre creature molto molto particolari che lo attendono lì, e ricordando anche un pochino film come Io sono leggenda, ad esempio, nonostante non sia appunto solo, perché ci sono queste creature strane, e ci sono altri personaggi, oltre agli altri criminali che sono sicuramente sparsi a Tokyo come lui. Però principalmente un altro personaggio è questa ragazzina dalle zampe di volatile, sembrano le zampe di un pollo, che però appunto nasconde il difetto di cui parlavo prima dell'opera, ovvero il fatto che questa ragazzina poi si rivela praticamente chiamarsi Tsugumi, come l'arma che stanno cercando questi uomini, ed è accompagnata da questo mostro, questo mostro scusate, che è una specie di tigre enorme che si chiama Tora, quindi, no, l'arma si chiama appunto Tora Tsugumi, se non ricordo male, molto probabilmente, quindi si capisce praticamente sin da subito, che è questa ragazzina insieme a questa tigre ad essere l'arma che stanno cercando, e quindi questo è un grosso difetto, secondo me, a meno che non ci sia un'altra spiegazione, come spero io sia nei numeri successivi. Quindi, se c'è un'altra spiegazione, sicuramente è un difetto grosso che viene tolto, perché per il resto mi è piaciuto molto, per l'ambientazione, per il tipo di storia, per i disegni, perché, ecco, vi faccio vedere ancora qualche disegno, sono davvero molto fighi, davvero riesce a calarsi, a farci calare molto bene in questa ambientazione post-apocalittica che a me piace un casino, come ad esempio anche, appunto, dicevo prima, Evelyn Delusion, che è praticamente la mia serie in corso preferita, si può dire. Guardate anche che disegni di ampio respiro, poi, che ci fa vedere l'autore. Quindi, su questo, sui disegni, sono veramente colpito, sulla storia anche, spero solo, che questo piccolo difetto che ho trovato nella narrazione, perché magari svela subito cosa potrebbe essere una delle parti fondamentali dell'opera, in realtà, poi, si riveli essere semplicemente un abbaglio che ci è stato dato dall'autore, magari anche proprio per cercare di confonderci volontariamente. Quindi, sicuramente, il primo volume, per me è promosso, per quanto riguarda i disegni, per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda l'ambientazione, la costruzione della lore, di questo mondo, sicuramente promosso. Grazie. 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 Grazie.